Buonasera a tutti, ci ritroviamo con il nostro solito appuntamento del mercoledì alle ore 16. Questo è il nostro sesto seminario del primo ciclo di otto seminari previsti. Questo seminario parla di web semantico come PLA, quindi cerca di affrontare le problematiche relative quali sono gli strumenti e le piattaforme per un e-learning di qualità. Ce ne parlerà Giorgio Poletti dell'Università di Ferrara, della scuola e-learning dell'Università di Ferrara, un'università che ha una lunga tradizione nell'ambito delle e-learning. Io e Giorgio siamo fisicamente nello stesso luogo, quindi passerò la parola a Giorgio fisicamente scambiandomi la cuffia. e Giorgio potrà avviare il suo seminario e poi condurre la discussione finale. Intanto vi comunico che tutte le registrazioni dei seminari precedenti sono già pubblicate sul canale YouTube della Ciel e possono essere consultate e sono ampiamente consultate. Bene, io passo cuffia e microfono a Giorgio, lo ascolterò dall'altra parte del vetro e un saluto a tutti, buona serata. Allora, intanto ringrazio Tommaso per il passaggio, saluto tutti coloro che sono connessi, come avete visto io e Tommaso siamo fisicamente nello stesso luogo. Quello che stasera, seppur brevemente naturalmente con tutti i limiti di tempo e anche per quanto riguarda un'ampiezza dell'argomento che ha bisogno di essere in qualche modo sezionato, io cercherò di fare una introduzione o comunque un quadro di riferimento di quello che è il rapporto che può esistere o che esiste secondo me tra il web semantico inteso come personal learning environment utilizzando un po' il paradigma di personal learning environment e in qualche modo utilizzando gli strumenti della rete come istanziazione di questo oggetto. Noi nei precedenti incontri sono stati affrontati molte tematiche rispetto alle learning, i MOOC piuttosto che quelli che sono stati le piattaforme, tanti ambienti all'interno del quale le learning si è sviluppato e che la rete ha dato come ambienti di sviluppo. Poteva essere interessante ragionare come nel personal learning environment e come la Ciel potesse avere un ruolo in questo ambito, in un mondo dove tutto sommato quello che serve non è tanto aggiungere nuovi paradigmi ma quasi in qualche modo porsi nell'ottica di cercare degli standard all'interno del quale le persone possano condividere da una parte e condividere in modo semantico dall'altra, quindi in modo significativo, significante dall'altra quello che è il mare dei contenuti con un'attenzione a quello che è stato chiamato un learning di qualità. Qualità è un termine che si presta a molte interpretazioni. Probabilmente, e lo ridirò anche come conclusione quasi, ma lo dico anche come inizio, cosa significa di solito proporre qualcosa di qualità? Beh, qualcuno dice qualità vuol dire eccedere le aspettative di colui che ti ha fatto la richiesta. Le stesse persone di fronte alla stessa cosa danno valutazioni diverse rispetto a quello che si aspettano da loro. La rete probabilmente ci deve aiutare a capire cosa si aspettano oppure di cosa hanno bisogno le persone che interagiscono e dargli quel qualcosa in più, oltre a ciò che necessitano. Qualcosa che molto spesso, come anche il data warehousing, in qualche modo teorizzava una risposta a domande che non riescono a formulare pienamente. Quindi capendo dalla loro navigazione, da tutto ciò che loro interagiscono, piuttosto dal cammino che fanno all'interno della rete, di cosa hanno bisogno. Quello che io cercherò di fare in questo intervento e anche di stimolare poi la discussione è quello di capire qual è stato lo sviluppo, anche storico volendo, e strumentale del personal learning environment nella storia del learning o comunque dell'approccio all'apprendimento e dall'altra parte come il web inteso come web semantico possa in qualche modo essere il vero personal learning environment e da ultimo come già anticipavo quale può essere il ruolo di Ciel e delle persone che intorno a Ciel lavorano e ricercano all'interno di questo ambito di ricerca e di sviluppo. Quello che in realtà cominciavo a partire col concetto di personal learning environment o comunque di rapporto di apprendimento sulle learning e da questo punto di vista non toccherò in nessun modo quelli che possono essere i modelli di learning e di teaching. Dicevo che comunque è una citazione se volete non proprio ortodossa ma è quella di Yoda e sempre due ci sono né più né meno un maestro e un apprendista. Io credo che questo tutto sommato in chiave come dire da un punto di vista fondamentale elementare può essere ripreso ogni tipo di rapporto rete persona 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 mette nell'ottica di qualcuno che è il maestro o comunque colui che eroga dall'altra parte colui che apprende. Qual è la differenza che in qualche modo la rete e il learning in generale ha potuto evidenziare è che in fondo ho fatto questo tipo di immagini mi diceva un maestro una classe che cosa produceva? Produceva un tipo di grafico per cui c'era una sorta di replicante il nostro allievo era tutto sommato il frutto di ciò che veniva detto quindi in qualche modo era una piccola replica o comunque una piccola diciamo in qualche modo emanazione di quello che era il maestro non a caso c'è l'idea di fare un grafico che produceva un unico grande elemento blu con tanti piccoli elementi blu vuol dire in fondo tutto ciò che viene fuori è identico a quello che è il maestro da questo punto di vista la rete che cosa cambia? beh la rete sostanzialmente cosa fa? cambia l'idea di avere una classe con un maestro e un rapporto uno tanti allievi che tutto sommato possono solo essere come dire un'emanazione diretta di ciò che apprendono con quello che è la rete questo è il nostro tipo di classe cioè un cosiddetto sistema discreto e distribuito dove è vero che io posso forse ma forse sicuramente in qualche modo governare o capire cosa succederà in ogni singola relazione tra il singolo allievo e il singolo maestro ma cosa succederà quando ci saranno molti allievi che andranno a interagire con molti maestri molti maestri che a loro volta sono allievi in questo sistema discreto quindi dove esiste un cambiamento di stato a tempi successivi non continuo ma a scatti se volete e distribuito dove sia la parte dell'informazione che la parte come dire dell'assunzione di informazione è su diversi ambiti non solo su diverse macchine ma anche su diversi ambienti su diverse persone il problema è ragionare su un concetto che sia quello della complessità intanto eventualmente se mi fermo è perché comincio a leggere anche le chat e magari diventa anche interessante come dire ragionare su quelli che possono essere le suggestioni che vengono a diciamo così dalle persone il problema è cosa succede quando appunto andiamo a un livello distribuito quando l'insieme interagisce in modalità continuativa gli allievi diventano maestri in alcune situazioni il maestro non è più unico può essere in qualche modo come dire validato o meno da quella che è la comunità e dove effettivamente nella rete sembra che come il vecchio e buon Aristotele che non aveva certa disposizione internet diceva il tutto è maggiore della somma delle parti perché continua ad esserci un'idea abbastanza come dire dinamica ma anche in crescita continua sia dei contenuti che delle relazioni e ragionare su qual è il livello di complessità che la rete ha in questo livello cosa vuol dire il livello di complessità non è solo quante risorse servono a raggiungere l'obiettivo che io voglio che normalmente è un livello è una quasi diciamo così comune definizione di complessità ma in questo caso la complessità è quali sono le risorse necessarie a raggiungere in modo elementare immediato soddisfacente l'obiettivo che l'utente non sto dicendo il discente in generale ma l'utente ha quindi sia per la formazione per quanto riguarda anche la sua informazione da questo punto di vista questo è un ambito abbastanza come dire complesso diciamo così per quanto riguarda la rete alza l'asticella prima appunto avevamo le classi adesso le persone hanno un apprendimento che o perlomeno hanno un modalità di apprendimento che è legato a una serie di come dire di fonti e di ruoli che variano e la rete in questo senso aiuta o in qualche modo aumenta la complessità del sistema ora è interessante capire come il concetto del personal learning environment si sviluppa negli anni e proprio dia una come dire un'idea di come la rete e come forse anche SIR dovrà occuparsi di queste cose ha cambiato non tanto l'atteggiamento ma anche come dire la modalità con cui l'apprendimento in senso generico l'apprendimento di informazione non necessariamente strettamente scolastico può essere visto allora diventa interessante capire qual è la storia che ha il personal learning environment ma soprattutto una prima definizione base all'interno del quale poter ragionare per poter dire che cos'è e a cosa può servirci e perché il web semantico da questo punto di vista sembra essere almeno a mio parere quello che è il vero personal learning environment che in prospettiva diventa efficace allora la definizione più condivisa è che un personal learning environment è un ambiente composto da uno o più sistemi applicazioni client desktop o website cioè vuol dire in fondo è la rete cioè un ambiente che permette alle persone di andare a recepire informazioni non solo da diverse fonti ma da diversi ambienti quindi documenti con strumenti da più sistemi da più applicazioni che possono essere online piuttosto che desktop quindi offline in qualche modo o interagire tra queste diciamo tra questi ambiti la storia in realtà del personal learning environment è una storia anche di come la tecnologia è utile perché in fondo è istanziazione non tanto di una metodologia ma di un modo di intendere il raggiungimento di informazioni la prima volta che in fondo il personal learning environment viene citato e in queste slide che io poi farò avere in pdf esistono anche tutti i link a questi luoghi e a questi documenti che parlano di personal learning environment nella prima istanza è ragionato come possiamo vedere qui in un articolo in realtà dove Golden e Miller al Massachusetts Institute of Technology fanno un articolo legato all'intelligenza artificiale qui c'è il link ma non sto ad aprirvelo ovviamente poi se qualcuno vorrà andrà a leggere questo articolo lo farà dove appunto cominciano a ragionare sul fatto che c'è una diciamo così un'idea per cui è possibile implementare il motore di intelligenza artificiale per poter dare strumenti e poi poter fornire informazioni articolate rispetto ad esigenze ai nostri utenti e però prima di arrivare in realtà a un primo diciamo così vero strumento dobbiamo arrivare al 98 quando la rete comincia ad essere uno strumento come dire non tanto di vasto utilizzo ma comunque di vasto riconoscimento conosciuto per esempio FLE che come dice giustamente Gianni Marconato è anche localizzato in italiano in questo in questo momento io ho mantenuto quello che era diciamo così il link tradizionale a quello che è l'evoluzione naturale che ha avuto FLE FLE3 che è l'EMIL che in realtà è proprio un primo e attualmente ancora diciamo così funzionante utilizzante è il primo learning environment FLE sta per future learning environment cioè già si comincia a capire in Media Lab di Helsinki che la rete è il luogo in cui si sta andranno a sviluppare il concetto di learning environment ma e non è a caso che nello stesso anno che si sta cominciando a parlare tutto sommato di web semantico attraverso un linguaggio XML perché perché il learning environment e su questo se vogliamo avere un'efficacia di uno strumento per quanto riguarda il diciamo così la rete come formazione in senso sempre ampio non toccherò le metodologie vi ricordo o non toccherò nessun tipo di come dire modello pedagogico da questo punto di vista ma allora la rete mi dice ok lì ho tutto ma in questo momento perché comincio a parlare tecnicamente di web semantico faccio una parentesi sì la prima scrittura era in Python assolutamente sì quello che mi domandava Stefano Ricci in questo momento in questo nello stesso anno in cui il future learning environment nasce nasce anche l'XML un linguaggio del web semantico dove si comincia a dire se tutto il materiale sta lì dobbiamo passare dal concetto di machine representable quindi non abbiamo solo il problema di rappresentare di avere un modo con cui spiegare alle macchine dire nelle macchine come sono i nostri contenuti ma machine understandable cioè devono capire non tanto capire cosa c'è scritto questo è evidente ma avere degli strumenti che capiscano qual è il significato il contenuto qual è in qualche modo l'obiettivo che può essere perseguito attraverso quei documenti è in questo che comincia a ragionare il concetto di personal learning environment che comincia ad avere un significato che comincia in qualche modo anche a dare una ragione alla possibilità di studiare di implementare strumenti tecnologici perché l'informatica in qualche modo ritrova la sua ragione di essere la sua automatizzazione dell'informazione cioè un'informazione che per essere automatizzata deve portare con sé la propria struttura portare con sé il proprio significato cioè arrivare a quello che è come dico sempre il passaggio dal concetto del dato al concetto dell'informazione in rete trovo dati correlati che mi danno informazione ma devo fare un passaggio ulteriore devo correlare le informazioni per dare in qualche modo quello che sappiamo sapere io so una cosa se correlo le informazioni io ho tutto sommato una cultura se correlo i saperi la mia idea è posso in qualche modo aiutare queste correlazioni o comunque trasmettere queste correlazioni in modo semantico ecco i PLE in questo modo cominciavano a ragionare poi vedremo il semantico poi ripeto vedremo quella che può essere la la prospettiva che in quanto sia potremmo intravedere o vedere in questo contesto ma questo machine understandable che cosa fa produce per esempio alcuni strumenti per esempio Colloquia Golden & Miller scusate Colloquia ragiona Golden & Miller scusate è un copy and call improvvido dalla parte alta non c'entra nulla in questo contesto poi lo cancellerò nelle slide finali Colloquia cosa fa? comincia a ragionare degli strumenti per il peer to peer e per il groupware quello che poi in qualche modo è la modalità con cui ha sempre lavorato l'open university qui comincia a dare strumenti che permettono di ragionare di condividere e di in qualche modo gestire l'informazione peer to peer attraverso il concetto di groupware così come lo stesso sistema che il Northern Ireland Integrated Management Learning Environment in NIMLE o NIMLE come qualcuno o NIMLE come qualcuno dice fa cioè prendo tutto quello dell'Irlanda del Nord integro tutto il learning l'environment faccio una serie di strumenti che permettono il management ancora ragionando tutto sommato nella chiave generale in quello che comunque c'è un apprendista e un maestro perché comunque le strutture permettono all'apprendista se volete così di navigare in modo correlato intelligente tutto quello che volete però sempre seguendo un tipo di struttura che è predeterminato se volete o comunque ha delle regole predeterminate il passaggio che comincia a ragionare verso i semantichi web e quindi a vedere come in molti a molti come in realtà molti sono i maestri molti sono i docenti scusate i discenti ma a volte i docenti i discenti sono maestri e via discorrendo abbiamo la nascita di edutella edutella si pone un altro problema che è fondamentale in questo contesto è fondamentale nel contesto della rete è fondamentale per noi se vogliamo ragionare su una rete che sia accessibile il concetto del metadato cioè un semantic web ha senso di cui si può parlare se ha dei metadato dove c'è una condivisione in qualche modo di formalismi che mi permettono di capire machine understandable quello che è il significato di quel documento allora forse questo è un altro passaggio probabilmente è il momento in cui noi dovremmo cominciare a ragionare su un setting di metadata significativi il più possibile economici in termini di tempo e di spazio quindi un numero abbastanza limitato qual è il dna fondamentale di un'informazione all'interno del quale puoi poter lavorare per correlare le informazioni tra di loro perché il processo di metadata è l'altro grosso come dire scoglio che sia il personal learning environment che il web semantico si trova a diciamo così ad affrontare io cito sempre che quando si parla di standard abbiamo avuto von Neumann che diceva qual è il bello degli standard è che ce ne sono molti noi dobbiamo smettere di avere molti standard di cominciare a condividere in qualche modo gli standard fondamentali se volete anche ambiente per ambiente ma standard che ci permettano di condividere i documenti per poi dopo andare a ragionare su quella che può essere la qualità del materiale che viene fornito per evitare voglio dire di avere una massa di materiali interessantissimi che però sono lasciati come dire alla fortuna piuttosto che all'abilità del singolo solo l'abilità del singolo per diciamo così la buona fruizione la buona scelta la buona assemblaggio di quelli che sono i documenti ma in questi anni che sono quelli degli anni 2000 si prosegue in questo senso e addirittura comincia a ragionare in un modo un po' più articolato se dal primo personal learning environment si passa al concetto anche dei metadata quindi la necessità di discutere e di capire quali sono gli elementi fondamentali le caratteristiche fondamentali che identificano un documento o un'informazione all'interno della rete ecco che esiste invece anche Roma che è road mapping cioè cominciamo a ragionare su un sistema di navigazione a feedback per migliorare il rendimento cosa vuol dire Roma prevede non solo che si possa navigare ma che questa navigazione prevede dei feedback da parte di coloro che questa navigazione hanno già fatto quindi una sorta di tutor senior gli studenti che hanno già fatto quella navigazione danno un feedback e questo migliore rendimento di coloro che vengono dopo perché hanno gente che gli hanno già esplorato il sistema in precedenza cominciamo a ragionare già su un concetto non solo che il web semantico svilupperà ma che il web 2.0 svilupperà per cui la rete è importante anche perché esiste il fatto di un peer to peer e qui cominciamo con i sistemi complessi non c'è più un rapporto io con lo strumento ma ci sono io con l'oggetto che ho trovato io con il contenuto ma io con il contenuto e con i commenti che a quel rapporto con il contenuto hanno dato tutti coloro che sono venuti prima di me quindi non posso più governare semplicemente un feedback singolo o ragionare su un feedback singolo il mio sistema comincia a diventare veramente complesso cioè posso dire cosa succederà a uno a uno ma non cosa succederà nel sistema nel suo nella sua totalità sempre in quest'ottica in realtà abbiamo anche un passaggio ulteriore l'università di Wallerhampton mette su pace che è Personal Academic Careers and Employability dove addirittura c'è un primo passaggio un altro che è un altro primo diciamo così barlume su quello che in fondo PLE web semantico per quanto riguarda le learning poi sono andati a riprendere che è quello del sostanzialmente dell'e-portfolio cioè come tutto questo possa essere anche in qualche modo inglobato per avere una storia una carriera di formazione di ogni singolo studente o di ogni singola persona poi andremo a vedere questo doppio ambito dove ogni singola persona si porta dietro in qualche modo e in modo strutturato e in modo come dire costante in modo permanente quello che è stato il suo cammino il suo cammino di apprendimento fino ad arrivare tutto sommato al primo vero stacco su cui il Personal Learning Environment comincia a diventare una consapevolezza mi spiego come web semantico è diventato a un certo punto una consapevolezza ma di fatto era nella diciamo nell'istinto o comunque nell'ipotesi di colui che l'aveva prodotto in realtà di web semantico basterebbe andare a vedere la prima mappa con cui viene prodotto Mesh per quanto riguarda il web ecco che nel 2004 in realtà alla prima conferenza della CETIS in qualche modo viene definito per la prima volta il concetto di Personal Learning Environment cioè viene in qualche modo attestato che questo è una buona modalità per implementare la propria formazione viene in qualche modo strutturato evidenziato viene definito se poi le definizioni andranno ad evolversi quello che è il concetto di Personal Learning Environment ed è il CETIS che appunto è il Center of Educational Technology e Interoperability Standards inglese dove sul Personal Learning Environment quindi siamo quasi è passato da poco il compleanno della definizione perché parliamo del 4 novembre del 2004 come primo convegno la prima conference che si focalizza sul Personal Learning Environment dove parliamo di come la tecnologia gli standard e l'interoperabilità sono le parole chiave per pensare la rete per pensare quindi il Personal Learning Environment quindi poi la rete nella sua evoluzione come l'ambito privilegiato che può raccogliere tutte quelle che sono le istanze di formazione nella loro complessità da qui da questa prima conferenza per esempio nascono tutta un'altra serie di esperimentazioni di strumenti di oggetti cioè MAPL trovate che è un Personal Social Networking cioè viene pensato come Mesh Up Personal Learning Environment qualcosa per cui c'è un come dire un networking personalizzato personale ognuno si crea il proprio networking lo gestisce e lo fa in modo tale che e diciamo così possa sviluppare secondo le proprie necessità o le necessità che gli vengono presentate dal mondo circostante la propria rete la rete migliore per la sua formazione vedo questo del protocollo semantica LLL lifelong log e diventa effettivamente un passo assolutamente interessante tutto questo poi lo rivedremo appunto e poi ringrazio appunto Stefano Lariccia per l'intervento diventa proprio questa una prospettiva noi dobbiamo pensare un lifelong o life wide log cioè qualcosa che tenga traccia ma non è le butate a volte creano ottime idee diciamo che in realtà che qualcosa che tenga traccia che permetta al sapere di diventare non solo una fonte personale ma una stratificazione a cui gli altri possono attingere se c'è un valore il personal learning environment così come il semantico è quello di permettere che tutto ciò che viene scoperto possa diventare in qualche modo non tanto patrimonio comune ma sicuramente esperienza anche se la termine è un po' come dire discutibile esperienza comune le persone possono partire possono non solo fare esperienza ma partire dall'esperienza degli altri ma tenere traccia di ciò che è successo quando hanno fatto certe scelte di poter tenere traccia dei loro cammini logici in realtà tutto questo ha dato anche l'importanza di tutto questo ha dato origine a quelli che erano i framework per costruire personal learning personal learning environment cioè dei framework PLEF è questo è un framework così come lo ELG che ha una serie di vantaggi e di svantaggi perché un personal social networking è un framework con la necessità di un plugin cioè dobbiamo cominciare a ragionare di avere gli stessi strumenti ma sfruttando quelli che sono gli strumenti il più possibile portabili e il più possibile condivisi standard se volete ELG comunque è un ottimo oggetto di sperimentazione per quanto riguarda il diciamo così l'ambito del personal learning environment ho già l'idea di fare un framework qualcosa che mi permetta di costruire e ribadisco è un framework che permette alle singole persone di costruire non costruisco io PL permetto a ciascuno di costruirsi il proprio personal learning environment poi vi ripeto potete tranquillamente vedere questi link e capire un po' anche quelle che sono le potenzialità e chi in qualche modo soddisfa le proprie le esigenze di ciascuno da questo punto di vista ma in questi anni naturalmente c'è stato tutta questa come dire evoluzione ci sono stati molti diciamo così strumenti che hanno implementato questo e naturalmente continuo a leggere naturalmente nel frattempo i commenti ma concordo da questo punto di vista su quello che stanno scrivendo le persone e cominciamo a ragionare su un concetto più di web legiamo verso il web allora il primo che faccio vedere ma ne faccio vedere ne identifico solo due o tre che non ho continuate pure tranquillamente a scrivere due o tre che sono fondamentali per me da una parte c'è Simbalu Edu c'è anche Simbalu che è lo strumento vero e proprio Edu è quello più mirato all'educational che comincia a ragionare più verso il web cioè prende le diciamo così le caratteristiche fondamentali del PLE le declina sul web e cosa fa? Organizzazione e sharing di web content a noi non basterà mai semplicemente lo sharing lo sharing è buono se uno sharing per quanto riguarda le learning ma in realtà per la formazione se uno sharing motivato uno sharing semanticamente definibile altrimenti sì è un lo sharing comunque è un buon modo di lavorare ma rischi di non lasciare traccia non perché non lasci traccia in sé perché non è rincracciabile perché non ci sono strumenti che mi permettono di rintracciare secondo contenuti tutto lì allora Simbaedo invece permette questo ed è un diciamo uno strumento che può essere visto ma soprattutto si comincia a ragionare su una bibliografia su articoli si comincia a riflettere su riflettere sì è quest'altro il progetto Roll come ci sono sotto come dice Sorrentino io ho fatto una scelta di quelli che erano come dire quelli che secondo me rappresentavano alcuni punti fondamentali ma anche il progetto Roll è un altro di quei progetti che ragione in questo in questo senso ma che come tutti gli altri progetti ci stimola a capire se è necessario se è possibile in qualche modo fare una una sorta di meta PLS se è il caso oppure di sviluppare qualcosa una metodologia una logica che permetta alle persone di ragionare sulla rete come PLS quindi come anche come Siel voglio dire essere in qualche modo guida da questo punto di vista linee guida per fare ciò però ripeto in questi anni parliamo dagli anni del 2010 quindi parliamo degli ultimi due o tre anni non solo il fatto che esistano diciamo così dei sistemi abbastanza articolati potenti corposi ma anche cominciasseci una riflessione su questo le conferenze sui PLE sono state fatte 2010-2011 Barcellona Southampton potete trovare tranquillamente online tutte le diciamo quelle che sono la documentazione però cominciano a ragionare su quelle che sono le metodologie ma soprattutto cominciano a ragionare su come i PLE in realtà possono essere sviluppate attraverso quelli che sono gli strumenti della rete questa è un'immagine qui è piuttosto piccola però raggruppa quelli che sono gli strumenti che la rete mette a disposizione per lo sharing per la metadattazione e per la navigazione in qualche modo semanticamente definita piuttosto che logicamente caratterizzata all'interno delle pagine piuttosto che dei contenuti così come Pebble Pad che ho messo non tanto che è un sistema proprietario ma perché è un altro passo come dire di correlazione che evidenzia la relazione stretta che esiste tra i PLE e anche il concetto di e-portfolio cioè la necessità che ma così come nell'ambito scientifico ci sia le persone i gruppi girino o siano caratterizzati non solo da ciò che fanno ma da ciò che hanno fatto e dalla relazione che esistono tra di loro e da ciò che hanno fatto in passato le relazioni tra tutte le ricerche che hanno fatto si può pensare a un e-portfolio personale come un e-portfolio di gruppo però questo diventa un altro passaggio fondamentale tutto questo porta mi ha portato a ragionare su che cosa in fondo i PLE interagiscono o perlomeno quali sono le componenti fondamentali qual è l'humus qual è il terreno su cui si trovano a elaborare e gli assi che tendono a dare delle direzioni allo sviluppo allora è evidente che i PLE hanno il vantaggio così come la rete di ragionare sia nell'ambito formale che nell'ambito informale quindi sia l'ambito formale che l'ambito informale hanno sicuramente il vantaggio non solo tecnologico teorico voglio dire metodologico di basarsi o di cercare di avere come terreno di crescita l'esperienza individuale ragionando sostanzialmente su quattro parti i contenuti i processi i metodi e parola fondamentale le community tutto questo guidati da quelli che sono gli obiettivi che l'esperienza individuale ha individuato che l'esperienza individuale ha in qualche modo definito che l'ambito formale o l'ambito informale in qualche modo ha come dire plasmato e che sono stati alimentati dai contenuti dai metodi dai processi quindi dai metodi per cui io posso elaborare i contenuti dai processi che mi permettono di usare i metodi per gestire i contenuti con il supporto delle community quindi il supporto di persone o perlomeno di ambiti che mi permettono di discutere di mettere in comune ovviamente cioè non quella classica idea del forum piuttosto che del blog che vedo una persona che chiede commenti tutto sommato sui propri post ma è idea di community di interscambio su cui si ragiona il molti e molti il PLE ha senso come si dice quel bel semantico perché tra le sue parole chiave c'è la community allora se queste sono le cose del PLE che cosa abbiamo a disposizione noi adesso noi abbiamo naturalmente il web 2.0 ora io posso andare a prendere e quello che vi dicevo prima molto spesso c'è all'inizio una definizione un'idea di ciò che io voglio fare e la tecnologia ancora non me lo permette completamente quando la tecnologia me lo permette ecco che si capisce la potenzialità del progetto iniziale se io vado a leggere quello che Timbersley scrive nel 2001 quando è evidente che gli strumenti della rete non erano quelli di oggi che era molto difficile se non si era tecnici poter accedere alla rete o meglio potevo essere un utente potevo accedere alla rete ma non entrare nella gestione della rete vera e propria scrive se l'interattività non significa soltanto stare seduti passivamente davanti a uno schermo allora l'intercreatività non significa solo starsene seduti di fronte a qualcosa di interattivo lo scrive nel 2001 e lo chiama l'architettura del nuovo web ora che cosa vuol dire vuol dire che il web 2.0 è un web user centred è un web semantico perché altrimenti l'intercreatività se non c'è una significatività nei collegamenti non può nascere e deve essere per forza user centred perché se non è l'utente il gestore finale colui attorno al quale gravita tutto come dire il mondo dei contenuti allora non c'è anche lì interattività intercreatività perché un inter prevede almeno la compresenza attiva semplice e fattiva delle persone nello stesso modo il web 2.0 Andrew Lee dell'Università di Hong Kong lo mette con quattro parole chiave creativity client side collective intelligence copyleft tutto questo quindi una creatività la possibilità che le persone possano in qualche modo interagire una client side è l'utente user centred quindi è la client side la parte fondamentale l'intelligenza collettiva non sto a tediarvi ovviamente con tutta quella che è la teoria da questo punto di vista dalle vie ad altri e il copyleft la possibilità di condividere in modo più o meno libero common le contenuti questo non fa altro che identificare il web 2.0 con tutte le caratteristiche e tutti gli strumenti necessari qui c'è un'immagine con tutti gli strumenti che il web 2.0 mette a disposizione per definirlo come un personal learning environment ma il fatto che sia un personal learning environment da un punto di vista strutturale non ci può fare a meno di almeno di chiederci cosa vuol dire la qualità dei contenuti cosa vuol dire l'interoperatività sono su queste due parole chiave che probabilmente noi potremmo ragionare la qualità dei contenuti essendo un personal learning environment la qualità è eccedere le aspettative ma come cedere le aspettative se non si riesce a leggere queste aspettative probabilmente il mondo del business in questo punto ci deve dare forse una mano forse ci deve dare una direzione come sono in grado di leggere le aspettative dei clienti noi dobbiamo essere in grado di leggere le aspettative degli utenti leggere il libro Bubble probabilmente fa vedere come sia possibile in realtà sulla rete creare in qualche modo dei profili personalizzati e soprattutto una qualità dei contenuti passa anche per un concetto di interoperabilità eccedo le aspettative ma soprattutto per eccedere le aspettative permette a tutti di gestire questi contenuti devono essere non legati a degli strumenti specifici quindi il personal learning environment e quindi il web 2.0 che dell'interoperabilità ha fatto una delle sue parole chiave sono quindi web 2.0 come personal learning environment è quella che può essere una via quella che può essere un oggetto di analisi interessante da questo punto di vista soprattutto perché ci permette la rete l'interazione di definire i processi di capire in qualche modo cosa sta cercando il nostro utente ed eccedere le sue aspettative quello che cerca e in più informazioni collegamenti in quello che gli potrebbe interessare qualcosa che migliora anche ciò che lui sta cercando diventa fondamentale altrimenti rischiamo veramente di lasciare a come dire alla semplice a semplice merchandising quello che è uno strumento invece semantico assai potente ah sì poi poi alla fine rispondo a Stefano Lariccia e a queste domande finisco la cosa che ormai sono verso la fine e poi cerco di rispondere quindi quali sono gli orizzonti e qual è il ruolo della Siela in questo punto probabilmente noi potremmo cominciare a ragionare se è possibile a definire quali sono gli indici che in qualche modo possano in modo compiuto identificare un documento una risorsa un processo per quelli che sono i suoi campi di utilizzo o i suoi campi di importanza la scesa in campo per la scelta di standard non facendoci imporre standard in quanto ormai gli standard non sono altro che quelli che sono gli standard di mercato la roba più venduta diventa uno standard no dobbiamo cominciare a ragionare su degli standard significativi probabilmente nessuno l'ha mai fatto forse una battaglia persa probabilmente spero di no ma sicuramente è una battaglia che va aperta se non c'erano degli standard significativi importanti tutto il resto non è quantificabile non è qualificabile e cominciare a proporre dei modelli quali sono i modelli che possono in qualche modo soddisfare l'idea che il web diventi un personal learning environment quali sono in qualche modo le figure professionali le figure tecnologiche ci servono ci servono per definire dei modelli che permettano alla rete di diventare un personal learning environment dove le persone trovano non solo quello di cui hanno bisogno ma anche quello di cui hanno bisogno tra virgolette in modo inconscio perché ci sono dei bisogni di sapere che è come il data warehousing il knowledge discovery dare risposte a domande che non si riescono a formulare qual è la metodologia noi fino ad ora abbiamo gestito l'approccio e l'uso delle metodologie probabilmente è opportuno fare il passaggio di quello che è un aiuto alla metabolizzazione cioè veramente le metodologie devono diventare trasparenti all'utente perché sono parte del suo bagaglio metodologico e tecnologico la rete così diffusa il cloud gli strumenti non possono non interrogarci su come le persone possono metabolizzare queste tecnologie non solo approcciarle quindi in qualche modo capire come funzionano e poi usarle per i propri scopi specifici ma anche per averli come uno strumento che gli vengano in qualche modo in aiuto per quelli che sono le come dire le azioni che dovranno fare giornalmente tutti i giorni quindi diventa una competenza se volete da questo punto di vista concludo con quello che diceva in una classe l'insegnante si aspetta di essere ascoltato lo studente pure probabilmente la rete è il luogo dove tutti si aspettano di essere ascoltati quindi è probabilmente il luogo dove noi dobbiamo cercare di capire come dare feedback a questi ascolti e come dare risposte invece alle esigenze questo è vi ringrazio intanto per questo è quello che volevo in qualche modo dirvi adesso cerchiamo magari di aprire un po' di discussione io credo io purtroppo ho fatto la scelta di fare una sorta di piccola storia per capire un po' quale secondo me era l'evoluzione e quale possono essere le prospettive comincio magari a prendere un po' comincio dalle prime domande giusto perché cosa significa eccedere le aspettative beh in realtà è quello che dicevo prima cioè nel senso che l'importante è capire di cosa le persone hanno bisogno in questo la rete molto può fare ma non solo dargli ciò che è stato chiesto ma l'eccedenza delle aspettative significa aprirgli nuovi orizzonti rispetto a quelli che sono diciamo così le conoscenze che già hanno cioè fargli capire che quello che lo vogliono sapere non è solo sufficiente ma hanno già aperto una strada che va oltre in qualche modo fargli capire che ogni loro ricerca ogni loro richiesta non si conclude solo con la risposta alla sua domanda ma in realtà gli apre orizzonti nuovi e c'è delle loro aspettative vuol dire secondo me non solo dargli una risposta ma fargli capire o fargli percepire che la loro domanda è un aumento della conoscenza della rete o della nostra conoscenza se volete cioè già nella domanda c'è un arricchimento in chi ascolta questo è quello che io dicevo poi scusate vado in ordine perché allora per quanto riguarda la metabolizzazione e la distribuzione degli standard e dei codec ma la metabolizzazione è cerchiamo di capire o di far capire alle persone che ci sono strumenti che è bene o le loro competenze è bene che diventano un loro patrimonio indipendentemente dal fatto se pensano che gli servirà domani o non gli servirà mai è un po' quello che è il concetto di euristica non so come non so quando ma so che mi servirà o sento che mi servirà quindi vale la pena utilizzare metabolizzare e fare parte di me gli strumenti che la rete può fornirmi e anche le metodologie allora rispondo a Fortunato Sorrentino lo standard sì allora il web semantico il W3C è sicuramente uno standard di web semantico è però come e sono come protocolli di intesa il web semantico di W3C la mia impressione è che potrebbe in qualche modo essere ripresa quella che era una definizione di Blasì Pascal che diceva sapete cos'è un cammello è un cavallo progettato dalla commissione di standard io ho la paura che o perlomeno diciamo così ho l'impressione che si rischiano gli standard o di stare molto larghi per stare dentro con tutto e quindi di fatto è semplicemente una sorta di collettore lo standard significa e il web semantico sta già andando in quella direzione indubbiamente ma dicevo anche per quanto riguarda le nostre esigenze capire quali sono le strutture base gli elementi base su cui poter lavorare per quanto riguarda un ambiente di learning in questo ambito del web semantico che è uno standard generale di linguaggio questo intendevo semplicemente è indubbio che il W3C ha una sezione e lo standard passa di lì però esistono come dire i proposal e poi le recommendation anche la sezione del W3C è frutto di come dire raffinamenti successivi tutto lì questo è e comunque anche per avere un'attenzione alla necessità che le persone si interessino degli standard per capire quali sono in qualche modo il DNA delle informazioni che stanno girando in rete tutto lì allora vediamo va un protocollo per esempio relativo a un fatto di conoscenza integrabile e metabolizzabile un cognitone sì anche i protocolli XML in fondo che cosa hanno fatto da questo punto di vista il cognitone potrebbe essere interessantissimo dicevo cosa hanno fatto i protocolli XML come tutti i protocolli hanno cercato di come tutti i linguaggi in realtà di minimizzare il numero di regole e il numero di elementi per poter fare il tutto perché minore il numero di elementi più abbiamo individuato le esigenze cioè mi spiego è come quando uno chiede una tesi al lavoro uno dice riesci in dieci righe a dirmi che cosa vuoi perché se riesco a sintetizzare in dieci righe allora ho capito che cosa voglio allora probabilmente nel web semantico si tratta di capire riesco a ridurre al minimo i termini le indicazioni che mi caratterizzano in modo univoco un oggetto un documento una relazione perché più ho ridotto il sistema più probabilmente ho compreso o perlomeno sono andato vicino a quello che è il nucleo questo è la cosa eh sì lo so gli insegnanti concordo con Gianni dimenticano che gli studenti vogliono essere ascoltati in realtà quando parlo che parlo io questo mi rendo conto effettivamente questo ma forse la rete da questo punto di vista è stato un grimaldello perché se una volta tu tornavi a casa e avevi qualcosa a dire la mia generazione e la mamma diceva guarda l'ha detto la maestra zitto buono lì adesso abbiamo talmente tante fonti che probabilmente è più difficile insegnare alle persone a filtrarle però anche l'insegnante deve sapere che ha come dire dei concorrenti se vogliamo usare un termine così quindi deve ascoltare per far capire eventualmente o per capire se ci sono errori di comprensione errori di metodo e aspetto le ultime domande poi sono qui io comunque vi lascerò lascerò appunto le slide con i link per cui voi avete la possibilità di gestire anche andare a vedere i link e poi magari di risentirci se qualcuno è interessato di ragionare sulla possibilità di creare strumenti che basati sul web producano personal learning environment il più possibile flessibili il più possibile semplice da usare e il più possibile che richiedano la gente solo di saper dire che cosa vogliono e dargli gli strumenti necessari da questo vedo che alcuni stanno digitando quindi aspetto la digitazione degli oggetti delle persone degli oggetti che devono fare perché perché paradossalmente dicevo più ragiona sugli standard più la gente tende a dare oggetti proprietari perché uno più sicuro e il passaggio al PLA in fondo deve anche scartinare il concetto di piattaforma dove mi sento piuttosto sicuro e dove so che tutto ciò che viene fatto viene fatto semplicemente con le mie strutture scusate che adesso scrollo un attimo ah certamente le competenze le competenze purtroppo sono probabilmente più dalla parte dei formatori o meglio che non dalla parte dei studenti noi forse erroneamente pensiamo che gli studenti o comunque le nuove generazioni sono molto abili indiscutibile che sono molto abili però probabilmente hanno più come dire abilità che non competenze da questo punto di vista forse nel personal learning environment cominciare a ragionare sul concetto di competenza diventa piuttosto importante il rapporto diversamente il rapporto business cliente certo quello di Larice il mio problema è che voglio passare a uno standard che sia significativo non uno standard di mercato dove chi ha un mercato più ampio diventa lo standard di fatto gli standard di fatto mi possono interessare relativamente mi interessano di fatto se come dire incarnano quella che sono le esigenze no ah certo la dimenticanza degli studenti ho assolutamente ancora le false competenze io sono molto d'accordo quando dicono i miei allievi sono più bravi di me indiscutibile a usare le cose però io faccio una quando parlo con i ragazzi diciamo così anche nei primi anni di docenza nei primi anni quando faccio docenza nei primi anni non nei primi anni di docenza che ormai si perdono nella notte dei tempi l'idea che la gente se uno domanda sapete navigare tutti rispondono di sì poi la seconda domanda è cosa vuol dire saper fare navigare e lì la gente dà risposte quando le dà assolutamente diversificate e a volte sono legate semplicemente alla capacità di usare uno strumento particolare per navigare i PLA e la rete il web semantico deve cominciare anche attraverso la per prendere coscienza chi ha già una diciamo una praticità trasformare l'incompetenza questo diventa veramente importante sì esistono molti schemi XML anche questo ciascun dominio il problema è tutti questi però giustamente nascono da una base comune una cosa che è finita dalla base comune che poi si producono schemi per i sistemi specifici va benissimo ma l'importante è riuscire a definire questa base comune che mi permetta comunque di leggere Machine Understandable qualsiasi ambito questo diventa fondamentale ecco sulla descrizione della conoscenza ci sono le ontologie anche su quello è un bellissimo diciamo così ambito anche perché anche lì parliamo di ontologie di dominio ontologie near e anche le ontologie cosa prevedono tutto sommato prevedono una sorta di gruppo di controllo che vale di queste ontologie quanto la rete semantica possa validare le ontologie non dico in modo automatico in modo significativo rispetto a delle regole perché le ontologie servono assolutamente alla descrizione della conoscenza ma la validazione di questa descrizione della conoscenza da un punto di vista tecnologico e da un punto di vista del linguaggio che le codifica è una bellissima sfida che se fosse risolta probabilmente darebbe molte risposte affermativa alle nostre domande assolutamente se il mio materiale verrà distribuito potete utilizzarlo senza problemi rispondo a Stefano Ricci in questo momento allora rispondo a fortunato Sorrentino sì probabilmente il problema è l'usabilità da parte dei discenti come dire rovesciandolo da un punto di vista dei docenti nel senso che è molto complesso insegnare a comprendere o diciamo ad apprendere il problema è che il PLA attualmente naturalmente deve essere se parliamo di ragazze della scuola un parallelo cioè le persone devono avere una capacità di potersi come dire costruire il proprio ambito di avere questa capacità la produzione di questa capacità d'altronde in realtà quello che un docente anche di scuola superiore ma di università fa è quello di creare un personal learning environment in realtà che è uguale per tutti i suoi studenti gli da alcuni libri gli da alcuni siti gli da alcuni che ne so io indirizzi gli crea un personal learning environment esercizi che la persona si mette insieme da questo bisogna che cominciare ad apprendere forse con strumenti con anche diciamo strumenti software se vogliamo ad ampliare a partire da questo la propria diciamo così la propria conoscenza cioè a comprendere quali sono gli obiettivi che deve perseguire in quel in quel ambito fossero anche gli obiettivi dell'insegnamento che sta studiando piuttosto che il lavoro che sta apprendendo e da questo capire come usare i PLE per raggiungere i propri obiettivi questo è probabilmente la chiave di volta allora rispondo a Bognolo a Bruno dicevo quello che la SIL potrebbe affrontare in realtà è ci sono molte persone che si coppano di questo delle nostre università abbiamo parlato abbiamo visto all'inizio anche nelle altre relazioni quanto le nostre università si interessino a questo l'idea è non tanto come solito fare una commissione di studio su questo ma è cercare di capire per esempio in Italia attualmente chi usa il PLE o in qualche modo le learning quali standard sta usando e quali indici usa abbiamo fatto il seminario sui MOOC tante cose quali indici usa per selezionare i materiali a partire da questo vogliamo cercare di fare come dire una sorta di prontuare di libro bianco perché poi in realtà dicevo questo è il nostro problema molto spesso per quanto riguarda queste queste tematiche noi siamo molto portati alla sperimentazione la quale però se dopo dieci anni di sperimentazione abbiamo ancora fatto qualcosa che è come dire è connaturato al cammino è feriale passate il termine allora qualcosa deve essere visto nella nostra sperimentazione prendiamo tutto quello che noi stiamo usando adesso cerchiamo di capire se può essere un paradigma da offrire cioè la nostra rete così come parlavo prima con Tommaso mi viene in mente in questo modo gli indici bibliografici le citazioni sono un buon indice per capire se uno ha scritto una cosa buona bene applichiamolo se per la rete così come la web credibility è un buon indice prendiamolo anche noi poi andiamo avanti tra un po' capiremo che c'è da aggiustarlo lo aggiusteremo cominciamo a capire se ci sono delle cose che possono essere messe a sistema la SIL probabilmente si può prendere il compito di capire cosa è tutto ciò che viene fatto che è stato fatto e che la gente sta usando con profitto può essere messo a sistema questo è la cosa secondo me è il passaggio ed è secondo me l'esigenza maggiore che c'è adesso io da matematico è forse una deformazione professionale è quello di capire cosa si può mettere a sistema tutto ciò che non si può mettere a sistema lo continuiamo a studiare ma se non abbiamo niente da mettere a sistema bisogna cercare di capire cosa stiamo studiando e cosa stiamo utilizzando perché se no l'informatica perde e l'automatizzazione perde una delle sue potenzialità quella di poter rispondere a classi di problemi essere generale generale nel senso buono ovviamente nella sua applicazione io se non ci sono altre allora ah beh certo anche questa i falsamente ho capito male i falsamente competenti no c'è questa doppia cosa non dicevo che erano falsamente competenti gli studenti che probabilmente si molto spesso gli docenti molto spesso si sono falsamente competenti probabilmente non discuto il problema è che troppo spesso secondo me si confonde la capacità d'uso con la competenza tutto lì cioè io difido molto di quelli che se gli chiedi come fare una cosa e ti dicono me lo fai vedere mi dai in mano l'oggetto perché vuol dire che hanno una capacità di utilizzo ma non una competenza perché come solito se io non riesco a formalizzare cioè a spiegare un processo vuol dire che non sono padrone di quel processo questo è io lo dico sempre con i miei studenti e poi si mettono a ridere quando io spiego qualcuno diciamo così una cosa purtroppo il tempo tra cui comincio a spiegare e quando parte la frase lascia lì che faccio io che faccio prima si abbassa sempre questo diventa probabilmente un'evidente incapacità nel formalizzare i processi forse perché non li possediamo a pieno diciamo che l'esempio è molto banale se volete però l'idea è di cominciare a possedere a pieno e poterli spiegare tutto lì ecco questo l'idea di elaborazione di linguaggio naturale diventa piuttosto interessante per mettere a sistema queste cose perché ripeto finché qualcuno non si decide e la sigla secondo me è il suo compito mettere a sistema queste cose diventiamo cose bellissime buonissime eccezionali ma che con la rete diciamo così hanno un impatto molto molto basso ecco l'autonomia dell'apprendimento diventa fondamentale se noi vogliamo passare dal long life learning al wide life learning quindi in tutti i campi non possiamo non perseguire la strada dei PLE o del web semantico come personal learning environment altrimenti non si riesce a percepire l'importanza di un wide learning lungo tutto wide life learning non long ma in tutti i campi perché c'è una metodologia c'è un modo di apprendere di approcciare e non sto facendo ripeto nessun tipo di valutazione morale è cosa buona o è cosa non buona è ciò che abbiamo a disposizione dobbiamo usarlo al meglio per tutte le sue potenzialità e credo che questa possa essere la via e che la sigla abbia una grossa potenzialità per perseguire questa strada questa è la mia impressione da questo punto di vista il problema dei courseware come è citato lì niente semantico la difficoltà nel riutilizzo dei materiali sta lì la difficoltà del comporre il materiale in rete sta lì il fatto che o mi ricordo dove sono ma non ho motori strumenti per poterli in qualche modo costruire reperire correlare che diventa veramente importante da questo punto di vista sto aspettando le ultime digitazioni dopo di che allora vedo questo della se vedo questa cosa della certificazione le false competenze era erano sono una di quelle cose fondamentali perché ripeto il problema è sempre quello e per quello che il web l'insegnare ad apprendere diventa più importante molto spesso che insegnare proprio in modo come dire puntuale alcune cose e ripeto la differenza sempre è quella è come dire un insegnante e non sto dicendo che pecco di diciamo così una docenti per docenti non è male e dicevo non è peccare di come dire in qualche modo di presupponenza ma se voi mi date un qualsiasi argomento due giorni per prepararlo per due ore di lezione io ve lo preparerò non ho problemi spero però che alla fine non mi facciate delle domande su un argomento che non conosco veramente cioè il valore dell'insegnante non si gioca come quello che mi sto giocando io adesso probabilmente me lo sono pure perso nelle due ore o nell'ora nelle cinquanta minuti in cui spiega qualche cosa con delle slide parlando ma si gioca quando comincia ad interagire quando ha domande su quell'argomento è lì che si passa dal saper fare una cosa alla competenza essere poter usare una cosa alla competenza sono competente se riesco a rispondere anche a domande su tutto ciò che non fa parte della mia preparazione di quella specifica lezione che è solo un parte del mio argomento io uguale sono competente a navigare in rete sono competente a usare il web semantico non perché so cercare quell'argomento perché so usare quello strumento questo questo è l'idea l'assunzione di competenza sta e il web da questo punto di vista probabilmente da una mano il web semantico nella logica con cui io voglio apprendere qualcosa perché mi interessa assumere la capacità a gestire quei tipi di processi non perché mi serviranno domani che se mi serviranno domani tenderò ad imparare le cose che mi serviranno per farlo domani sperando che domani di non avere altri grossi problemi che il processo si svolga esattamente come l'ho pensato ieri quindi con quei passi che ho imparato a fare l'importanza sì sono d'accordo i gruppi e tutto quanto la frammentazione è frutto tutto sommato o meglio è un'evidenza probabilmente non so così frammentate come le informazioni sono forse non abbiamo ancora capito quali sono le relazioni che possono in qualche modo permettermi di mettere insieme tutte queste piccole diciamo così frazioni è come quando forse da piccoli la mamma o il papà o qualcuno ci dice nella tua camera c'è una gran confusione e tutti noi risponderanno sì ma nella mia confusione trovo tutto l'importante è cercare di capire come è possibile individuare le logiche che governano qui parliamo di caos non di confusione se voglio continuare a citare citerò su Pascal il caso è solo il frutto delle nostre ignoranze non abbiamo capito quali sono i meccanismi evidenziamo questi meccanismi quindi questo secondo me è il discorso che può la rete mettere insieme e che Siel può in qualche modo promuovere da questo punto di vista allora io non conosco nessun ateneo o scuola che adotta un PLE in quanto come dire struttura conosco colleghi che usano ELG ho usato anche io in alcune o che usano altri strumenti ma una struttura che in toto poi magari mi smentiranno da 10 minuti 2 minuti c'è qualcuno che lo usa benvengano proprio perché probabilmente ancora le scuole hanno metabolizzato sì la partecipazione sì la gente deve imparare a studiare l'autonomia eccetera però ancora probabilmente c'è una difficoltà nel gestire questo strumento in qualche modo nel proporre e nel dare un significato buono ho un significato come dire efficiente ed efficace per il cammino di apprendimento nelle scuole io sinceramente di uno che di una struttura che lo fa no sicuramente dobbiamo pensare positivo anche perché come dice uno deve sperare sperin bene sì anche questo sì probabilmente più per le persone io dico sempre abbiamo un web 2.0 con degli utenti 0.5 molto spesso questo è il vero problema probabilmente le tecnologie sono andate più avanti degli utenti o forse perché abbiamo cercato di abbassare il livello necessario per apprendere le tecnologie piuttosto che come dire formare la gente non solo nell'Italia io sul concetto di PL forse l'Inghilterra forse i paesi Olanda Norvegia il nord hanno qualche idea perché forse per loro tradizione di autonomia degli studenti alcuni per fatto di avere delle come Norvegia per esempio territori molto ampi dove le persone naturalmente molto spesso apprendevano dovevano essere aiutate ad apprendere da sole da sole nel senso geograficamente parlando hanno sviluppato queste cose ma anche altre esperienze europee che usino i PLE o il web come PLE di prospettiva io sinceramente dal punto di vista di fatto strutturale non spot di un insegnante piuttosto che di una classe piuttosto che di un gruppo di insegnanti proprio come connaturato come invece molti usano dei wiki usano altre cose connaturate nella loro gestione della scuola sì ovviamente il problema del cambiamento è un problema anche dell'insicurezza cioè nel senso che non sappiamo o perlomeno probabilmente questa prospettiva ci pare essere eccessivamente incontrollabile se vogliamo l'idea di poter avere strumenti che lasciano facciano perdere in qualche modo l'autorità è che in realtà la rete ci ha stimolato ci sta stimolando a far sì che l'autorità si trasformi in autorevolezza ma soprattutto ci ha abituato al fatto che ogni tanto sia possibile più o meno in modo condivisibile misurarla questa credibilità questa autorevolezza perché naturalmente in un mondo come la rete dove tutti possono scrivere tutto è chiaro che cerchi il più possibile di auto tra virgolette governarsi cioè di avere degli strumenti che permettano di indicare autorevolezze e credibilità da questo punto di vista è quello che dicevo con il mio problema è che la rete parla di credibilità di autorevolezza web credibility la è la stessa differenza tra autorevolezza quindi autorità la credibilità sta lì se ho autorevolezza se ho credibilità se ho degli indici che garantiscono le persone in qualche modo su quello che io sto dicendo sto facendo non ho più il problema di perdita di autorità è sempre stato il problema eterno di tutte le organizzazioni e le organizzazioni dicevano il sapere è potere più che volere potere il sapere è potere le persone non condividevano ciò che sapevano perché se lo sapevano solo loro potevano governare e questo è in un mondo dove la rete lavora dove c'è un sistema di condivisione di peer to peer bisogna riuscire a come dire sfruttare questa nuova potenzialità come valore aggiunto non certo come valore sostitutivo nessuno strumento negli anni almeno a mia memoria ha soppiantato i precedenti li ha integrati gli ha aggiunto potenzialità soppiantati non ne ricordo da questo punto di vista se non ci sono altre domande a questo punto vi ringrazio poi con con Tommaso farò avere il materiale in pdf il materiale poi la mia mail all'inizio se ci sono poi ci rivedremo anche io come come partecipante ai prossimi ai prossimi web seminar e poi in qualsiasi altro momento poi in qualsiasi altro momento che l'associazione vivrà insieme poi comunque ripeto chiunque sia interessato a queste cose mi contatti io ben volentieri sono disposto a discutere a parlare anche a realizzare cose in questo ambito perché ripeto secondo me è questo il nocciolo rendere feriale rendere effettivo rendere a sistema ciò che noi abbiamo messo vi ringrazio ancora sì sì l'ho detto promesso se volete faccio anche il tuo giurini giurella grazie grazie a voi buona giornata grazie a voi grazie a voi